Salve a tutti qua da Fabio, oggi siamo in una sbarbata, voglio costruire un canale YouTube della stessa mia passione e il rosso rasaggio tradizionale, lascio il link in descrizione. Oggi c'è il rosso, facciamo il gel per barba, lasciamo qui un buon pennello, ho già bagnato il viso. Grazie a tutti. Grazie. 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 quando inizia l'autunno per provare i bignoli per l'inverno in più il branco rosso a presto come il rasoio usiamo più questo classico in metallo con le gillette plate le mie preferite questo rasoio è bello profondo quindi va in profondità taglia e quindi io riesco a usare la metà più gentile questo ti è il marato un mio collega 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 un 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 collega collega un 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 collega Perfetto. Pochise pochise non sono solo un pacchetto di taglietti che sono fatti ma quasi nulla. Continuiamo qua, adesso ci seguiamo la faccia con acqua fredda. Ora ci mettiamo. Il balsamo dopo barba. Ok. 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 Grazie. Grazie. E attivate la campanellina per rimanere aggiornati del canale. Qua da Fabio è tutto. Ciao.